Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il Pescara passa dal girone centrale a quello meridionale di Serie C. Va deciso questo pomeriggio il Consiglio di Lega Pro che ha provveduto alla compilazione dei tre raggruppamenti da 20 squadre previsti per il prossimo campionato 2022-2023 al via dal 29 agosto, mentre per i calendari bisognerà attendere la giornata di domani. Una decisione che era nell'aria già negli ultimi giorni, soprattutto da quando, oltre alla fermana, era stata ripescata in C per il forfè di Teramo e Campobasso la Torres con l'altra formazione sarda dell'Olbia già nel girone B dallo scorso anno e proprio la Torres in sostanza ha preso il posto del Pescara nel girone del centro Italia anche per non dividere le due squadre isolane. Ma in verità la probabilità che il Pescara potesse essere confermato nel girone del centro Italia ha disputato lo scorso anno finendo al quinto posto dietro Entella, Cesena, Reggiana e la promossa Modena e poi eliminato ai playoff promozione erano davvero poche. Tanto è vero che a passare dal girone centrale a quello meridionale orfano di diverse squadre del sud tra le quali il promosso Palermo è stata anche la Viterbese che lo scorso anno era insieme al Pescara nel girone centrale. Un raggruppamento per la verità annunciato già da indiscrezione nei giorni scorsi e un campionato considerato quello del girone C almeno sul piano agonistico ambientale più impegnativo con squadre come il Catanzaro già indicate come favorite per la vittoria finale nell'unico posto utile per la promozione in B nella fase a gironi prima dei complicatissimi playoff promozione. Questa è la schermata delle 20 squadre che si daranno battaglia quest'anno tra le quali Avellino, Taranto, Latina e Monopoli. Squadra dell'attuale allenatore del Pescara Alberto Colombo che conosce bene il girone C per averlo disputato con un buon campionato lo scorso anno con la formazione pugliese eliminata proprio dal Catanzaro ai quarti.